Questa mattina Luca Sansone, operatore sanitario che lavora in ospedale da circa 20 anni, si è incatenato di l'anzi in ingresso dell'ospedale di Eboli, pronto a denunciare un ventennio di soprusi e illegalità. Sansone dice di avere le prove di assunzioni fatte a parenti ed amici a scapito di altri. La sua protesta nasce dall'ennesimo licenziamento e trasferimento in altra sede. Il motivo, secondo quanto riferito da lui, sarebbe il fatto che sia persona non gradita. Io so tutto, dice, per questo do fastidio. Inoltre la sua protesta è finalizzata ad alzare l'attenzione sull'imminente chiusura del reparto di ortopedia di Eboli. Non mi muovo da qui se non parlerò con il sindaco. Il direttore generale dell'ASR è con Picarone o Bonavitacola. Quindi portiamo a sua conoscenza che dal 15 febbraio terminerà il contratto d'appalto per l'ospedale di Battipaglia, risultando comunque in malattia di certificazione. Precisiamo che il rapporto di lavoro è da considerarsi solamente ed esclusivamente sino alla scadenza del periodo di malattia. Quindi bloccato il rapporto di lavoro per quanto riguarda Battipaglia, dice qui. Perché no, io giustamente, il direttore mi ha fatto spostare da Eboli a Battipaglia. Poi da Battipaglia sono stato spostato di nuovo a Capaccio perché lui, diciamo che abbiamo fatto delle cose che poi spiegherò ai magistrati, diciamo di quelle, di queste cose che abbiamo fatto sia per lui sia per la sua famiglia. Non legali evidentemente. Non legale, non legale. E ora la situazione com'è? Ora la situazione che loro mi hanno spostato su un cambio di cantiere, diciamo che questo cambio di cantiere dovrebbe essere ancora a Capaccio, però io giustamente a Capaccio non accetto questo perché giustamente io ho sempre lavorato in questo ospedale e chiedo di rientrare nel mio posto di lavoro, ma non come responsabile, anche a fare i rifiuti speciali, però di lavorare con, diciamo, il mio impegno, diciamo, di lavorare nel mio paese facendo il mio lavoro. Non è che uno vuole fare il responsabile o non vuole fare il responsabile. Io chiedo ad ora, prima di tutto, pure per l'ospedale perché l'ospedale sta chiudendo. In questo caso qua teniamo urologia, chirurgia, ortopedia, che sono in affanno, ci stanno in ortopedia, ci stanno due medici. Voglio pure queste spiegazioni qua perché diciamo che la distruzione di questo ospedale, loro dicevano che avevano chiuso pediatria e urologia, ma adesso sta chiudendo tutto l'ospedale di Ebony con questa gestione. Quindi diciamo che tu non è che stai qui perché hai perso il lavoro, in realtà il lavoro ce l'hai, quindi non è una, diciamo, una ripicca nei confronti. No, 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 assolutamente. Io chiedo però di essere preso, cioè di lavorare nel mio paese dove ho lavorato per 15 anni. E perché queste cose non sono uscite prima? E queste cose qua non sono uscite prima perché giustamente lui teniva sempre, dato che lui giustamente tiene questo, la cosa grave di tutto è che il committente, che sarebbe l'ASN, è in concurso diciamo con queste ditte esterne, tipo Dusman e Ariete. Scambi di piacere, assunzioni, io ho nomi e cognomi di tutte le persone che sono state assunte, anche persone strette al dottor Minervi. L'obiettivo è quello di farti ascoltare e quindi da chi vuoi farti ascoltare? Allora, prima di tutto, se è possibile, perché dato che questo ospedale, diciamo, adesso fa parte del DEA, dai due sindaci sia di Ebole sia di Battivaglia, dalla direzione sanitaria e se potrebbe venire qualche assessore della giunta di Luca, Picarone, Buonabidacola.